Yannick Sinner batte Novak Djokovic per 7663 e scrive un altro pezzo di storia del tennis italiano. Oltre questo, ieri, anzi per meglio dire due giorni fa visto che questo video usciera domedì, Yannick Sinner si è assicurato la prima posizione del ranking mondiale fino a fine anno, quindi Sinner chiuderà la stagione 2024 da numero uno al mondo. E' stato tutto pazzesco ragazzi, è stato tutto pazzesco che andremo ad analizzare e che andremo a riprecorrere non dopo avervi invitato ad iscrivervi al secondo canale, anche a questo, insomma a questo non vi iscrivete, certo che non lo facciate insomma vista la mia scarsa continuità, però sul secondo ragazzi è importante che vi iscriviate se non volete che io vada per la gay e diventi pelato, perché non so se sapete ma qualora non dovessi raggiungere mille iscritti sul secondo canale, sto ad 82, entro la fine dell'anno io mi farò pelato, l'ho detto, correrò anche 50 km, farò anche 500 pigmenti, per far sì che tutto ciò non accada, per far sì che voi non mi vediate morire in video, per favore ragazzi iscrivetevi, se trasportassimo tutti gli iscritti di questo canale sull'altro canale starei già a metà strada, il che non sarebbe male, quindi iscrivetevi, iscrivetevi anche al mio profilo Instagram, anzi seguitemi sul mio profilo Instagram e seguitemi anche su ex. Allora, ci sono tante cose, devo parlare, anche il ritiro ovviamente di Rafael Nadal, colpo molto pesante ovviamente per i fan di Rafael, insomma proprio la notizia che era nell'aria, un po' come il ritiro di Federer qualche anno fa, non so se vi ricordate, insomma io sono un fan di Roger principalmente, ma ovviamente a mio apprezzo moltissimo anche Nadal e anche Djokovic, diciamo che Nadal e Djokovic la mia stima per i due è più o meno simile, mettiamolo così, e poi per Murray, per Federer ovviamente è più stima perché è il mio idolo tennistico e lo sarà per sempre, però balleremo nel ritiro di Nadal per ultima cosa, perché prima vorrei parlare un po' di Sinner, allora partita con Djokovic veramente eccezionale, insomma una grande partita da parte di Sinner e ragazzi insomma ha dimostrato che è il più forte, in questo momento il più forte soprattutto sul cemento, soprattutto sul cemento indoor, insomma ha dimostrato veramente di cavarsela molto bene su questa superficie, insomma questa superficie che è lui più gli si addisce e lo ha dimostrato insomma l'anno scorso e lo sta dimostrando adesso nuovamente. Stagione veramente mostruosa quella di Sinner, insomma altro titolo, settimo titolo, sono sette titoli stagionali e ripercorriamoli tutti, Australian Open, Rotterdam, poi abbiamo Miami, Halle, Cincinnati Open negli Stati Uniti e adesso Shanghai, spero di non essermene dimenticato nessuno perché qualora questo fosse stato il caso, qualora questo fosse il caso meglio dire, mi dispiacerebbe assai. Comunque si ha sette titoli stagionali, oltre 11.000 punti a livello ATP, l'anno scorso Djokovic se non sbaglio è chiuso con 10.700, una cosa del genere, vediamo se Sinner quest'anno riuscirà a fare ancora meglio, nella race credo abbia superato i 10.000 e se non li ha superati sta comunque sia a ridosso di quella soglia, quindi insomma mancherebbe potenzialmente quasi 2.000 punti. Operazione fattibile con 1-2 tornei, io non so se Sinner giocherà a Bersin, non so quanto gli convenga perché non so nemmeno se voglia giocare alla Davis, cioè io credo che Sinner debba scegliere un torneo tra Bersin e la Davis, insomma perché se va a giocare sia Bersin e se la Davis il rischio che arrivi cotto per i prossimi Open Australia perché noi già guardiamo avanti, insomma è alto. L'obiettivo primario di Sinner è vincere le Finals perché Sinner ovviamente soprattutto dopo l'amaro boccone dell'anno scorso vuole vincere le Finals, quindi secondo me dovrebbe lasciare stare Bersin e concentrarsi sulle Finals, quindi insomma avrebbe un solo torneo per massimo poter ottenere 1.500 punti. Comunque sia ragazzi, indipendentemente da questo, stagione veramente da fuori classe, è stagione extra lusso. Io adesso non voglio andare a vantarmi ma ho preso un altro pronostico, non vorrei dirlo, nel canale in inglese insomma mi sto comportando molto bene con i pronostici, soprattutto con un pronostico un po' folle, però ci ho appreso due volte, vediamo se capite di cosa si parla, se capite di cosa si parla scrivetelo nei commenti e se ci avete azzeccato ragazzi vi seguo su qualsiasi profilo social voi avviate perché ve lo meritate, perché non è semplice camminare questa cosa. Ma indipendentemente da questo ragazzi io inizio anno e farò un video a riguardo, cioè magari farò una clip e la metterò come sciolta, se i ragazzi dissi che Sinner finirà l'anno da numero 1 al mondo e vincere a 2 slam o a 3 9 in Open Day Stati Uniti. L'ho detto ragazzi, l'ho detto. Ah, altro pronostico è andato a segno, aggiungiamo questo. Se non sbaglio dissi che se un italiano e un italiana finiranno in top 10, questo potrei non averlo detto, ma se lo avessi detto ci ho preso. Ho detto che sbagliati i dannisti, insomma quel video ragazzi ce l'ho, ce l'ho anche il foglio di carta a qualche parte qua ma non credo di ritrovarlo, però quel video ce l'ho e lo riprenderemo. Però, altro pronostico colossale che ho preso ragazzi è questo, sentite. Io dissi che avremmo avuto almeno 3 titoli 1000 in bacheca e che ne avremmo avuto almeno uno per il femminile e almeno uno per il maschile. Così è stato. Paolini ha vinto il 1000 e Sinnerano ha vinti 3. Cioè ragazzi, alcuni pronostici l'ho presi e non era semplice insomma, quindi sono contento di questo, ma ovviamente alcuni pronostici li ho anche sbagliati ragazzi, adesso non pensiamo che io sia un cecchino. Qualche volta prendo, qualche volta non prendo, insomma. Ovviamente come tutti. I pronostici li sbaglia solo chi ha coraggio di farli. Chi non fa i pronostici e critica quello che li fa perché li sbaglia, diciamo sta un po' giocando a nascondino sotto un certo verso. Indipendentemente da questa, ragazzi, indipendentemente da questa parentesi aperta e chiusa adesso, Sinner ha veramente disputato una stagione eccezionale finora e insomma stagione per il momento da 9. 9 pieno. 9, 9 e mezzo. Se vinci le Finals, 9 e mezzo. Dai. Se non vinci le Finals ci teniamo passi su 9, ragazzi. Stagione molto simile a quella che Federer era in 21 e 17. Solo che Federer era in gioco meno perché insomma aveva 35-36 anni. Però Federer era in quella stagione 7 titoli, 2 slam, 3.000 e 2.500. Finora, quest'anno, Sinner ha fatto l'esatta stessa cosa. Speriamo che possa addirittura migliorare, speriamo che possa addirittura superare in quella stagione di Roger. Poi, hanno chiuso il numero 1 al mondo. Che dire, ragazzi, insomma, granitico. Numero 1 al mondo che Sinner detiene da 4 mesi, 5. Oltre a 4 mesi e che, insomma, Terragado fino a Miami potrebbe farcela. Ma anche oltre. Però dico, anche se dovesse, insomma, fare risultati magari peggiori dell'anno scorso che è comprensibile. Che quest'anno sono stati incomprensibili. Anche se dovesse ottenere risultati peggiori di quest'anno, il che è comprensibile. Fino a Miami credo che il numero 1 potessi essere il numero 1 al mondo laterale. Quindi sarebbero quasi 52 settimane del numero al mondo, quasi un anno intero. Insomma, ragazzi, cioè, non scherziamo. Ci sta chi diceva che la Carazza è il vero numero al mondo. I punti dicono un'altra cosa. E ragazzi, la cosa è che Sinner è più continuo della Carazza. Poi la Carazza ha picchi più alti. Perché obiettivamente la Carazza ha dei picchi disumani. L'anno prossimo sarà ancora più lottata la notte per il numero al mondo. Quest'anno non è mai stata in discussione, in realtà. Non è stata chissà quanto lottata. Insomma, la notte per la posizione numero 1 non è mai stata lottata la dominata Sinner. Però l'anno prossimo sarà lottata tra Sinner e Alcran. Sennò credo che l'anno prossimo avremo un terzo intruso. Credo che Zvere possa chiudere il numero al mondo. Può vincere uno stè, ma chiudere il numero al mondo mi sembra veramente difficile. Poi ragazzi, parliamo di Shanghai in sé per sé. Perché insomma, della stagione in totale di Sinner ne abbiamo già parlato. Shanghai è allora partita con Djokovic. Sinner è una spanna sopra. In realtà Djokovic ha tenuto testa, ha tenuto botta fino al tiebreak. E poi al tiebreak insomma è calato, volé, passante. Insomma, degli errori non da Djokovic che gli hanno costato il tiebreak. E che hanno portato praticamente a Sinner la vittoria. Perché da un set a zero poi, insomma, nel secondo set Sinner ha pressoché controllato. Non dico dominato perché Sinner, insomma, non è un dominio, è un solo break. Però comunque sia stato un secondo set controllato da Sinner senza troppi problemi, senza troppa fatica. Insomma, è stato un grande secondo set. È stato un secondo set che Sinner è riuscito a controllare. E un secondo set nel quale Sinner è riuscito a mettere Djokovic in una ragnatela. Insomma, ragazzi, no, non è più il Djokovic di tre, quattro, cinque, dieci anni fa. Però comunque sia, resta ancora, secondo me, tra migliore al mondo assolutamente. Non secondo me lo dicono i fatti. E lo dice la classifica numero quattro al mondo. Potrebbe anche scendere in qualche posizione ancora, ma resta assolutamente uno dei migliori. Io credo che a questo, ad oggi Sinner, scusatemi, Djokovic sia rienti tra i miei quattro. E, insomma, il ranking dice questo, ma anche terzo, ragazzi. Perché non so se a questo punto sia più forte Zverev, se a questo momento sia più forte Zverev o Djokovic. Insomma, Zverev dalle, da Wimbledon, anzi da Roland-Gross, diciamo da Wimbledon, anzi, diciamo da Roland-Gross. Ma se a Roland-Gross non l'ha reso, come avrebbe avuto Render, avrebbe avuto Render ancora meglio. Ma sappiamo che, insomma, a questi momenti lui ce l'ha. Quindi, insomma, Zverev è un fenomeno, è fortissimo, però, non so, Djokovic potrebbe essere ancora superiore a lui. Però Sinner e Akrax sono più forti di Djokovic, in particolar modo direi Sinner su cemento, indoor e outdoor, e Akrax su erba e su terra. E, al giorno d'oggi, il miglior giocatore del mondo su cemento, sia indoor e outdoor, è Sinner. Il miglior giocatore del mondo su terra ed erba è Akrax. Questa è la mia opinione. Poi ragazzi, ultimo punto del video, ultimo punto che andremo a toccare, è il ritiro di Rafael Nadal. Ragazzi, se ne ritira una leggenda, si ritira il 22 campione Slam, il 22 volte campione Slam, il 14 volte campione Lorangeross. Insomma, i numeri sono troppi per citarli tutti, però Nadal lascia un segno indelebile nel tennis ed è stato un giocatore veramente mostruoso, veramente fenomenale. Insomma, purtroppo non è riuscito a chiudere come avrebbe voluto. Insomma, la mia maestra, una delle mie maestre, una delle mie coach di tennis, disse una cosa molto saggia al tempo. Io disse che Nadal avrebbe potuto vincere il quindicesimo, ma mi sbagliai. Disse che si doveva ritirare dopo il 22esimo Slam e il 14esimo Parigi. Probabilmente aveva ragione, però Nadal ha voluto continuare, purtroppo, però dopo Wimbledon 2022 non è più stato il vero Nadal, quello con la N maiuscola è stato solo una falsa copia. Questo purtroppo a causa dell'Anca, a causa di infortuni, a causa del Calvario. Insomma, veramente Calvario fisico, a destra e manca, Nadal non è che adesso può fare i miracoli, anzi ne ha fatti fin troppi. Ringraziamo tutti Rafa, insomma, veramente fenomenale e ci ha fatto sognare, ci ha fatto emozionare, soprattutto a voi, Andi e Nadal, ragazzi. Non so adesso quanti di voi siano fatti di Nadal, ma sicuramente so che Walter è un grande estimate di Rafa, il suo idolo tennistico, purtroppo Alessandro. Non credo che voi due stiate vedendo questo video, ma se lo steste vedendo, commentate. Steste? Stesse? Non lo so, ragazzi, è luna di notte, insomma, sono anche rincoglionito e devo dire che le mie capacità oratorie a livello di... In italiano sono calato, ma questo devo tornare a fare video in italiano, purtroppo adesso mi sa che avrei dovuto, perché mi mangio le parole, bere dell'acqua prima del video, perché non lo so, c'è della saliva che mi fa mangiare delle parole. Sembra quasi che biascichi, non sto biascicando, sto semplicemente mangiando alcune parole, ma sono io troppo paranoico, speriamo che sia così. Indipendentemente da questo, ragazzi, commentate e fatemi sentire il vostro supporto, iscrivetevi al secondo canale, ragazzi, se non volete che io diventi pelato, insomma, fate, per favore, insomma, se 565, quelli che abbiamo, comunque, se 560 di voi si iscrivessero al secondo canale, ragazzi, arriviamo a 500... In realtà, facendo una matematica correttamente, 560 più 82 fa 642, ma 82 meno 560, insomma, ragazzi, arriviamo a 500 anche di là, quindi che vi costa di iscrivervi pure a quel canale, ragazzi? Iscrivetevi, taglia. Vi voglio bene e ci vediamo nei prossimi giorni con dei nuovi video. Ciao!